Ora è puntata sulla ruota di Balsamo, in un battibaleno Marianne Voss, però stanno facendo addirittura il vuoto sotto l'azione di Elisa Longoborghini. Balsamo dice no, non ancora. Prova a dare tutto e parte adesso Elisa Balsamo con Marianne Voss a ruota. Voss e Balsamo, Balsamo e Voss, Balsamo e Voss, ancora Balsamo davanti. Vince lei, vince Elisa Balsamo, un capolavoro azzurro.